Sono 18 i casi di positività al Covid-19 riscontrati oggi in Abruzzo, diagnosticati dai test eseguiti nel Laboratorio di Riferimento Regionale di Pescara, nell'Istituto Zooprofilattico di Teramo e dall'Università di Chieti. Il totale dunque sale a quota 2.803. L'aumento di 18 casi si basa su un totale di 1.732 tamponi analizzati, 1% di positivi sul totale. Nella giornata di ieri i positivi erano stati 52 su un totale di 1.234 tamponi analizzati, 4,2%. 327 pazienti più 5 rispetto a ieri sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 28 meno 3 rispetto a ieri in terapia intensiva, mentre gli altri 1.724 meno 23 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 286 pazienti deceduti più 6 rispetto a ieri, 438 sono i guariti più 33, di cui 181 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid-19 sono diventati asintomatici e 257 che hanno risolto i sintomi dell'infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono stati eseguiti complessivamente 32.397 test, di cui 26.195 sono risultati negativi. Del totale dei casi positivi, 241 si riferiscono alla ASL Avezzano-Sulmona-L'Aquila, 687 alla ASL Lanciano-Vastochieti, 1.244 alla ASL di Pescara e 631 alla ASL di Teramo. I 18 casi di oggi sono così distribuiti, 10 casi alla ASL di Pescara, 8 alla ASL Lanciano-Vastochieti, mentre non si registrano nuovi casi nelle ASL Avezzano-Sulmona-L'Aquila e Teramo.